M. Regucci, tre punti e avanti, l'obiettivo è vicino. Ancora no, Marcello, ancora no, ancora no, è inutile negare essere poveri, ti dico 12 punti, però c'è ancora da sudare, oggi abbiamo dato una prova di grande carattere, poteva essere chiusa prima contro una buona sestese, ma oggi insomma io penso che si sia visto un passo in avanti, quantomeno anche dalle occasioni, abbiamo avuto le tre occasioni o quattro che ci capitavano anche prima, ma le abbiamo sbagliate, capitano il calcio, però insomma l'1-0 è una squadra importante, porta a casa i tre punti e noi oggi l'abbiamo fatto, i ragazzi l'hanno fatto, quindi un grosso complimento a loro perché a livello caratteriale siamo riusciti tanto. Con il Monteparca sono sempre battaglie, a me vai, ministro? Perché è giusto così, la gente quando viene qua in questo stadio, in questa cornicea di pubblico, non ci sta a fare figurette e tira fuori anche quello che a volte non tira fuori, e come si dice noi in gergo tirano fuori il 110%, e quindi ti impegnano tanto, poi vengono senza niente da perdere, perché insomma vincere o perdere se portano via punti meglio, ma se no insomma la possano mettere in banca e così niente, però non ci siamo. Oggi abbiamo sbagliato, però abbiamo fatto un grosso passo in avanti, perché quando poi si rea vuol dire che gli attaccanti ci sono e non andrà sempre così, insomma, ci capiterà anche la volta e su quattro occasioni facciamo quattro gol come facevamo prima. Due parole sul pubblico, ancora carente? No, no, ma io il pubblico non l'ho mai criticato, il pubblico, anzi, io ho visto una bella cornice, la curva è preziosa, perché come sempre in casa e fuori, la tribuna ha un palato fine, l'ho detto in un'intervista, è la verità, qui sono abituati a vedere grandi squadre in antipalcoscenici, con altri allenatori probabilmente, e criticano, fanno bene, fanno crescere a me ragazzi, però è logico, non fanno sempre piacere, no? Se no sei le bugiarde a dirti che quando ti fanno le riti sei contento, non sono contento, ma le accetto perché spero che mi aiuti a migliorare. Tutte le domenze si soffre, eh, Presidente? Eh, vabbè, la sofferenza fa parte del gioco, però magari si potevano evitare queste sofferenze se nel primo tempo eravamo un pochino più precisi, dove meritavamo senza altro qualcosa in più. Ma qualche domenica o una merendina fra primo e secondo tempo magari rilasserebbe anche il tifosi? Eh, ma sai, gli avversari non sono di questo avviso, gli avversari ce la mettono tutta, danno tutto e anche oggi l'hanno fatto vedere. Questa è una squadra giovane che corre, che sa dove andare, che sa come aspettarti, quindi è anche con discreta qualità. A Brilli Peri è sempre una battaglia fino alla fine, mai tranquilli fino a triccio e fisco finale, come mai? Perché a Brilli Peri vengono tutti agguerriti, perché a Brilli Peri giocano un po' la partita più importante dell'annata ed è difficile poi affrontare una squadra che gode i favori del pronostico, però affrontandola non è che ci sia tanto da perdere o meno. Se facciamo il risultato bene e se non lo facciamo non succede niente, cosa contraria per noi. Una città con abitanti più alti di Valdarno, una squadra in prima classifica, pubbli un po' a setta a Montevallo. No, 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 oggi c'era una buona cornicia pubblica come del resto sempre. Ma mancano ancora. E speriamo di ritrovarli, vuol dire qualche innamorato vecchio, piano piano tornerà sui passi e contiamo di farlo tornare al più presto. I seguti lì, uscire a testata a Brilli Peri senza raccogliere punti è amaro in bocca. Sì, c'è molto rammarico perché credo che se oggi avessimo portato via un punto non ci sarebbe stato niente da dire. La squadra ha giocato con coraggio, abbiamo preso gol nel momento in cui la partita era equilibrata su questo calcio d'angolo dove siamo stati un pochino disattenti. Abbiamo sbandato 5-10 minuti, Montevarchi poteva raddoppiare, però poi dopo nel secondo tempo ho visto una grossa reazione, la squadra ha guadagnato metri, ha messo in difficoltà il Montevarchi, ha creato e non si è riusciti a raddirizzarla, abbiamo rischiato di prendere il secondo, ha fatto una grandissima parata al nostro portiere. Però, come ha detto lei, rimane rammarico, rimane la prestazione, non andiamo via con i punti, però con questo spirito penso che ci possiamo togliere da questi bassi fondi perché la classifica è sempre peggio.